Marostica. Malviventi in azione nella notte all'interno dei locali del distretto sanitario dell'Ulss di Via Panica. I ladri hanno tentato di rubare l'apparecchiatura del punto giallo impiegata per la riscossione dei ticket. Dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno cosparso il pavimento con del liquido lubrificante verde e tentato di trascinare all'esterno il pesante blocco. A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri ma i ladri sono riusciti a scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce. Rosa. Attenzione alla truffa del contatore. È iniziata in questi giorni la sostituzione dei contatori dell'energia elettrica e ci sono già tentativi di truffa. Il comune invita a prestare la massima attenzione. Sono giunte infatti alla polizia locale alcune segnalazioni in merito a falsi operai che suonano la porta e dichiarandosi addetti per la sostituzione degli apparecchi con la scusa di controllare le fatture e provano ad entrare in casa. Il personale di e-distribuzione sarà riconoscibile da un tesserino di identificazione con nome e foto. Nulla viene richiesto come pagamento essendo la sostituzione a titolo gratuito. 9. È già attivo da qualche giorno il nuovo servizio di informazione comunale attraverso WhatsApp. Un metodo semplice ed efficace per essere sempre informati su quanto accade in paese. Iscriversi al servizio è semplicissimo. Basta inviare un messaggio al numero 320 47 94 983 con la scritta iscrivimi e il proprio nome. In questo modo sarà possibile ricevere messaggi con tutte le iniziative programmate in paese o eventuali notizie utili come cantieri aperti o strade chiuse.